Come è una società che rimane focalizzata nel suo mondo, che è il mondo del food e del food compatibile, e lì si concentra e cerca di avere i costi più efficienti possibili grazie all'economia di scala, possibili proprio per i volumi che rimangono concentrati in un settore e su brand abbastanza omogenei, e dall'altra parte non sta che quindi ha la possibilità, sviluppando efficienza superiore alla media del mercato, di innovare, quindi di investire nell'innovazione. Oggi appunto abbiamo inaugurato questa fabbrica del co-packing, il servizio evidentemente richiesto da tutti i nostri clienti, come raccontava il responsabile dell'ingegneria, già oggi facciamo 25.000 colli al giorno del riconfezionamento in tutta Italia, ma non è che un filone di innovazione, gli altri filoni sono quelli che ha raccontato il professor Perego, quindi tutti collegati al fatto di avere strutture flessibili e interconnesse real time in tutte le fasi, in tutti i momenti del nostro lavoro. Questo è quello che ci caratterizzerà, in parte ci ha caratterizzato e ci caratterizzerà nei prossimi 20 anni.